Gli appuntamenti di venerdì 24 novembre. Alla scuola secondaria di primo grado Don Gnocchi di Lavagna c'è il saloncino dell'orientamento, dalle 9 alle 13 per le classi terze, dalle 15 alle 18 per tutti gli alunni e le famiglie interessate. A Sesti Levante c'è l'incontro Il Mondo Sommerso della Baglia del Silenzio. Un biologo proporrà un'immersione interattiva alla scoperta del Fondale Marino, alle 10.30 nella Sala Agave del Convento dell'Annunziata. Insieme contro la violenza 2023, a Camogli alle 10.30 incontro pubblico sul tema La violenza non è amore, con la collaborazione degli alunni di Camogli si svolge di fronte al Palazzo Comunale. A Lavagna lettura teatrale del gruppo I Caleido Fuochi, organizzata dall'associazione Incantevole Aprile, alle 17.30 all'Auditorium Campodonico. A Recco presentazione dell'attività del Centro Antiviolenza Martina Rossi, alle 18.00 nella Sala Franco Lavoratori di Via Ippolito d'Este. A Bogliasco conferenza della professoressa Sajid Arsied, condizione femminile in Iran e Afghanistan. Alle 18.30 nella Sala Piero Bozzo di Largo Screavin. 55esima convention dell'Associazione Italiana Sommelier, alle 11 a Palazzo Ducale di Genova a tavola rotonda con l'esploratore Alex Bellini, il climatologo Luca Mercalli e lo scrittore Antonio Perazzi. A Savona c'è Donne in Corsa, un congresso sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, dalle 14.30 all'Istituto Ferrari Spancaldo. Incontro con la cittadinanza Cicagna per spiegare quanto è emerso negli incontri per raccogliere idee sullo sviluppo della comunità rurale della Val Fontana Buona, alle 16 in Via l'Italia 25 a Cicagna. In piazza Nicoloso a Recco il sindaco presenta la radio sul mare Infiniti Recco, inizio alle 16.00. Per i corsi di cultura di Chiavari si parla di eventi della storia nella lezione da Giustiniano a Yersin, Storie della peste, alle 16.15 nella sala livellata di Via del Pino. Presentazione del libro Sostenibilità e Biodiversità, un glossario di Umberto Curti, alle 16.30 nella sala caduti di Nasseria a Palazzo Nervi di Savona. Gli insegnamenti degli avi, incontro con l'antropologo Paolo Giardelli, autore del libro La memoria ritrovata, alle 17 nella sala conferenze Domus Cultura di Via Chiossone a Genova. A Palazzo Ducale, sempre a Genova, ci sono i venerdì a Paxo e a Compagna, alle 17 presentazione del libro di Italo Pucci, l'Agnus Dei e le case celtiche. Dieci anni di Evangelii Gaudium, la conversione pastorale della chiesa che è in Genova, dibattito guidato da Don Giuliano Zonchi, direttore della rivista Clero Italiano, alle 18 nella sala Quadrivium di Genova. A Villa Sottanis di Casalza Ligure c'è la settimana dei diritti dei bambini, alle 19.30 serata ludica dedicata al tema. Dibattiti, letture e musica al circolo virgola di Sesti Levante, la voce di Dario Rigiaco racconta resistenza e libertà, passato, presente e futuro. Musica dei trilli, inizio alle ore 20. A maglie scoperte il titolo dello spettacolo di alleatrici del Centro per non subire violenza del Teatro dell'Ortica di Genova, regia di Laria Piagesi e Romina Soldati, inizio alle 20.30. 800 anni di presepe, Greccio, 1223-2023. Una serata per guardare all'avvento con lo sguardo di San Francesco, in compagnia dell'illustratrice Anna Formaggio. Alle 21 nella tenso struttura della scuola Maria Luigia di Chiavari. A Sesti Levante, per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, c'è la conferenza dibattito sul tema violenza economica, il lato nascosto della violenza di genere. Alle 21 nella Sala Agave del Convento dell'Annunziata.